La 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 la, la 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 la, la 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 la, è iniziata la vacanza nel villaggio tropicale, le famiglie con i bimbi, chi in piscina e chi va al mare, il bagnino tunesino ha una tedesca di un quintale, spiega come stare a galla, come muoversi e nuotare. La 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 la, la 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 la, la 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 la, mentre Jennifer pulisce e riordina la stanza, Mustafa dietro al bancone, versa birre aperitivi, per gli americani e i russi sono giorni di vacanza, perché qui siamo tutti buoni, non ci sono più i cattivi. Allà e al bar, con Buddha e Manitou, mentre Krishna sta parlando con Giove e Gesù. Allà e al bar, con Brahman e con Giove, rilassiamoci con loro, vieni pure tu. La 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 la, la 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 la, sono tutti al bar, la 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 la. C'è una rionga che riguarda come fossero marziani, e poi mangia avidamente pane, arabo e salame. Un ragazzo pakistano vende rose e tulipani, ieri compreranno tutti, qui nessuno fa la fame. Allà e al bar, con Buddha e Manitou, mentre Krishna sta parlando con Giove e Gesù. Allà e al bar, con Brahman e con Vishnu, rilassiamoci con loro, vieni pure tu. E la sera felici, quando tramonta il sol, si va tutti insieme in discoteca a ballare. La mezzaluna di limone dentro l'aperol, e chi non scende in pista comincia a broncolare. Allà e al bar, con Buddha e Manitou, mentre Krishna parla ancora a Giove e Gesù. Allà e al bar, con Brahman e con Vishnu, dai rilassati con loro, vieni pure tu. Allà e al bar, con Buddha e Manitou, dai rilassati con Giove e Gesù. Allà e al bar, con Buddha e Manitou, dai rilassati con Giove e Gesù. Rilassati con Giove e Gesù. Ciao ciao, grazie.